Allora siamo con Antonio Fiorillo, io il grande. Siamo fuori al mente. Però mi ha già avuto la calata, la mano non è zaga. Allora mi ha già messo quasi come si stia sparando in un rigore. Troppo alto, alzati. Amore e malavita. Allora dobbiamo assistere, amore e malavita, e lui è uno dei protagonisti. Antonio mi ha aperto pure un po' di beve. Beve e scogliaccio agli amici. Anche il grande racca. C'è anche Stefano Muffa. Un saluto Antonio. Un saluto a tutti gli amici di Facebook. E a Luigi. E a Luigi soprattutto. Ciao, ciao.